Io penso che chi vive nelle periferie degradate non sia rimasto inquietato da quella citofonata ma abbia detto che finalmente un politico si occupa della mamma dei nostri problemi che è lo spazio di droga che aggredisce i nostri ragazzi. Si occupa di se stesso, fa propaganda a se stesso violando ogni principio dello stato di diritto non è che poi risolve i problemi del quartiere ammesso che siano quelli c'è tutt'altro che prendersi cura dei cittadini, è solo una costruzione di un'immagine mediatica e bisognerebbe riflettere molto anche sul ruolo della stampa era una performance messa in atto perché c'erano dei giornalisti non è che Salvini la mattina si sveglia e fa queste cose in più aveva detto anni fa, mesi fa, andremo casa per casa con i migranti questa espressione è un'espressione pesante perché prima l'ha detto e ora lo sta facendo una bella intervista al padre di un amico di questo ragazzo che ha detto che quando ha visto questa scena in televisione ha pianto pensando alla violenza che un personaggio pubblico con tutte le televisioni ai suoi piedi faceva a questo ragazzo è piuttosto impressionante riflettere sulla violenza della politica cioè su una politica che entra veramente a gamba tesa fra i problemi non per risolverli ma per montare gli odi è l'imprenditoria della paura, cioè non si fa nulla per portare quel quartiere a vivere in modo più umano e lì c'è un problema di servizi, di eguaglianza, di sostenibilità sociale che riguarda tutti, ma si cerca un carro spiatorio e si fa la caccia alla strega ed è molto impressionante che il padre italianissimo di un amico italianissimo di questo ragazzo che è italiano anche se è un genitore tunesino abbia pianto di fronte a questo quanta umanità e intelligenza c'è in quel pianto rispetto a Salvini c'è stata la violenza di Salvini ma c'è stata anche la violenza perché quel ragazzo ha dei precedenti riferiti allo spaccio della droga c'è la violenza degli spacciatori di droga non il ragazzo minorenne però scusa Alessandro non il ragazzo di 17 anni il suo fratello e il suo padre che hanno ora un regolare lavoro se danno la droga a mio figlio non è che mi interessa quanti anni ha il pusher non è questo ragazzo di 17 anni la gente trova violenti gli spacciatori non Salvini